Buongiorno a tutti e buona domenica a tutti. Oggi abbiamo un 100x, un gigante da 20 euro, serie 61 numero 3. 3 come me, 3. Questo è grosso bro, ok. Allora, numeri vincenti. 40, 30, 53. Poi c'è il per 2, che sono 34. 37 per 5 e 51 per 10. Primo numero 11, non c'è. 22, non c'è. 38 quasi, c'era il 37. 49, no, no, no. 36, c'era il 37. 12, niente. 16, niente. 55, quasi. 44, non c'è. 31, no, no, no. 25, neanche. 23, no. 47, non c'è. 45, no. 17, neanche. 53, c'è. Si sono scoperti. Eh, si sono scoperti, mi spiace. Eh, sono ben 50 euro. Che bello. Che bella domenica. 54, niente. 18, niente. 29, niente. 52, niente. 48, nulla. 19, nada. 56, niente. Ultimi due. 24, no. E il 41. Bene. Direi che questa domenica è una bella domenica. Con 50 euro. Quindi io vi saluto, vi auguro ancora una buona domenica a tutti e tanta fortuna a tutti. Ciao.